Ricordiamo per vincitori anche un weekend per due persone Inizia adesso la partita Trattori al molino contro Tim Fascetto Signor Drago contro Finocchiaro Due titani a confronto Finocchiaro tenta di superare Signor Drago Ci pensa Bodo a risolvere tutto, è incredibile La palla per Tim Fascetto Finocchiaro si gira Per superare Drago E lo supera In clip adesso solo contro il portiere Mamma mia, doppio palo, incredibile Si mangia le mani Finocchiaro e Raciti se la ride Drago gli tira addosso E Drago gli tira addosso Stiamo ancora Finocchiaro, un'altra opportunità E stavolta lo supera ancora Pallonetto e c'è il gol di Finocchiaro Il tocco sotto vincente Il tocco sotto vincente Che porta il Tim Fascetto 1-0 Ai danni della trattoria al molino Drago cerca il fallo senza successo Non è chiaro Ancora lui in attacco Vediamo cosa si inventa adesso E se ne va a sinistra Torna Drago Lo ripassa Tiro Ci mette il braccio Bodo a mano Non può evitare il gol La quarta La quarta Di là, di là Abbiamo adesso la quarta azione per Tim Fascetto Finocchiaro, lotta fra i due Finocchiaro solo col portiere E c'è il gol E tra le note di Maria Salvador Finocchiaro Un altro splendido gol Drago Mamma mia, che gol Becca il 7 Un abbaio di russo Che può solo vedere il pallone Oltrepassare la linea nella porta Grazie a tutti